Warner tira in porta con grande decisione, ma ecco Becker che interviene sul tiro di Warner e riesce miracolosamente a fermarlo scongiurando il pericolo del pareggio Tom! Tom, come stai? Sei tu, Molly, sto bene, non preoccuparti, la palla, dove è andata la palla? La palla! Bello, prontissimo, ferma il pallone evitando il fallo laterale Olly, che stai facendo? Tutti i tuoi compagni si stanno dando da fare, vuoi muoverti? Tira Danny, avanti, cosa stai aspettando? Bene! Bello, si accinge al tiro, ma ecco Atton che gli si fa incontro! Allora, Danny, vuoi tirare? Atton, toglie la palla a Mello che resta immobile come allibito, non si capisce cosa sia successo al numero 15 della Muppet C'era qualcosa nei suoi occhi Avanza ancora Atton! Forza, su, fermatelo! Sì! Il tempo scorre veloce e la New Team è di nuovo l'attacco con Atton La Muppet si è schierata tutta in difesa per fermarlo Riblick di Atton Prosegue l'azione di Atton che supera anche Hale Stupendo pallonetto di Atton che coglie di sorpresa gli avversari Impiegherò tutte le forze che mi restano, ma ce la farò! Nessun giocatore della Muppet è riuscito a fermare Atton Ma ora vediamo Lenders e Warner, tornare indietro! Mancano due minuti alla fine Ho ancora il tempo di prendere la palla e quindi posso anche riuscire a pareggiare Non cercare di fermarmi Lenders, non ce la farai Lenders torna verso Atton e interviene sulla palla Ma Atton riesce a superare Lenders! Nello scontro tra i due capitani ne esce vincitore quello della New Team Ora Atton è davanti alle forze della Muppet Oh no, ce l'ha fatta! Atton è ora di fronte a Warner, che lo attende tra i pali Warner esce dalla porta e va incontro ad Atton per fermarlo Nell'eliminatoria abbiamo perso contro la Muppet con un solo gol di scarto Ora dobbiamo vincere con una differenza di reti maggiori Altrimenti sarà come pareggiare Quindi devo fare questo gol a tutti i costi Atton è pronto al tiro! Non tira, preferisce saltare! E porta con sé il pallone! Super e Warner che si sbilancia e va a terra Ora la porta è vuota! Siamo i campioni! Tiro di Atton! Tiro di Atton! Ed è gol! Stupendo! Questo giocatore è assegnato quasi allo scadere del sindicesimo minuto Della replica del secondo tempo supplementare Vistio finale dell'arbitro Evviva! 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 Siamo noi i campioni! Segno team ha vinto questo campionato nazionale battendo la Muppet per 4 a 2 dopo una partita combattutissima Durata 2 ore e mezza Abbiamo vinto, mi sembra tutto un sogno Un sogno? E invece siamo svegli? Evviva! Evviva! I giocatori della new team festeggiano il loro eroe, il capitano Olly Atton, realizzatore delle quattro reti della vittoria E ecco anche il grande Benji che sorregge Baker ancora stordito Anche Tom! Olly! Sì Benji è proprio vero, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto noi questo campionato nazionale Io ne ero certo Oh Benji che gioia! Ci pensi, siamo i campioni Grazie a te e a Olly! E a voi! E' comprensibile l'euforia e l'emozione della squadra della new team dopo la sudata vittoria di questa edizione del campionato nazionale Dei new team! Forza! 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 Che fai? Piangi? No, tu dici Anche i giocatori della squadra avversaria, la Muppet, si sono comportati da campioni, giocando benissimo per tutta la durata dell'incontro Appaiono tristi e demoralizzati, ma posso dire che il secondo posto in un campionato come questo è più che gratificante Siete stati bravissimi! Siete i più grandi, la vittoria non conta! Sono orgogliosa di te Mark Grazie Ci sei riuscito Olly, sei arrivato al tuo scopo Sono fiero di te Olly, sapevo di non sbagliarmi, sei un fuoriclasse Oliver Si Mark Mi hai battuto amico, tu e i tuoi compagni avete giocato molto bene e avete meritato di vincere questa finale Grazie Mark Tommy, hai giocato splendidamente anche tu in coppia con Oliver, lo sai? Grazie Mark Mi raccomando, guarisci presto Ehi Benji, questa volta purtroppo non mi hai riuscito di segnarti un bel gol da fuori area, ma puoi stare tranquillo che la prossima volta non fallirò Si, sei un avversario molto pericoloso Mark Sei proprio tu Volevo dirti che fino ad oggi nessuno era mai riuscito a farmi quattro gol nella stessa partita Seguendo l'esempio del loro capitano, i giocatori della Muffet sono andati a congratularsi con i giocatori della New Team Congratulazioni, siete stati bravi, bravissimi davvero Complimenti Gli spettatori applaudono vincitori e vinti che si sono affrontati con correttezza e determinazione Offrendo uno spettacolo sia agonistico che tecnico senza precedente Ricordiamo che la New Team ha battuto la Muffet per quattro reti a due Aggiudicandosi così la finale di questa edizione del torneo calcistico Noi tutti vi diamo appuntamento per il prossimo anno E ci auguriamo che il prossimo torneo si svolga come questo, nello stesso clima di autentica amicizia È stata la New Team a vincere E questo significa che sarà Oliver Hutton ad usufruire della borsa di studio Tra qualche istante, gentili telespettatori, avrà inizio la cerimonia di chiusura di questo torneo Congratulazioni, Oliver È tutto quello che posso dirti per ora Questo torneo ti ha molto maturato Ti ha fatto incontrare degli avversari molto forti E ogni volta per superarli hai imparato qualcosa di nuovo Hai mantenuto la promessa che mi avevi fatta E sei diventato il numero uno del calcio giovanile Bravo, ce l'hai fatta Se vinco verrà in Brasile con te, Roberto Purtroppo però Sono io che non posso mantenere la promessa che ti avevo fatta Adio Oli Adio In questo momento al capitano della New Team Oliver Hutton viene consegnata la bandiera della vittoria Ce l'abbiamo fatta ragazzi Grazie 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 Grazie